Si è svolta nella frazione di Montalto di Cessa Palombo, sabato 20 e domenica 21 settembre, la terza edizione di Saltarellando, un evento finalizzato a promuovere le tradizioni marchigiane, in questo caso il saltarello, con tutta probabilità una delle caratteristiche più note della regione. L'evento si è svolto in una delle due zone dell'Ecomuseo del Vissuto e dei Saperi dei Monti Sivillini. Con il termine Ecomuseo si indica un territorio caratterizzato da ambienti di vita tradizionali, patrimonio naturalistico e storico-artistico degni di tutela e valorizzazione. È arrivato un momento in cui si è evoluto il progetto, abbiamo portato avanti un gemellaggio con il partner straniero che era la Finlandia, la Finlandia è venuta qui ospite nostra insieme all'altro Gal Sibilla che ha un altro Ecomuseo in Ascoli Piceno. Da questo ha preso vita un'associazione che porta avanti l'Ecomuseo cercando di allargarlo in aree contigue che mantengono ancora dei valori paesaggistici, tradizionali e storici che sono un po' le fondamenta. L'Ecomuseo non ha il palazzo, le mura, è la tradizione, è la gente stessa che fa l'Ecomuseo, tant'è che oggi parliamo di Saltarellando che è una delle manifestazioni che vogliono portare qui a Cessa Palombo una serie di persone scolaresche, giovani e non giovani per far vedere quello che una volta era la vita contadina, le tradizioni. Per chiudere la nostra chiacchierata sul Saltarello vale la pena fare un focus sull'essenza di questo ballo, ecco come nasce e in quali occasioni, in quali circostanze veniva suonato e ballato. Il Saltarello, il racconto sarebbe un po' lungo, guarda, lo vado a stringere proprio al massimo, c'è un mito, il mito del Saltarello che viene insegnato a noi poveri mortali dalle fate e dalla Sibilla quindi a un passo da qua, dai Monti Sibillini scendevano a valle e imparavano a noi come ballare il Saltarello. Sono state le fate le nostre maestre, quello che riguarda la nostra tradizione invece è un ballo tipico dell'Aia, del mondo contadino e quindi delle feste popolari. Una volta svolti i lavori nei campi, alla sera ci ritrovava davanti casa ed era il momento in cui si celebrava con allegria il lavoro svolto e la bellezza di poter stare tutti insieme. Il Saltarello è un ballo di coppia essenzialmente, se volete lo possiamo anche chiamare di corteggiamento. Bisogna avere un bel fiato da parte dell'uomo per poterlo ballare e quindi anche mettere in mostra se stessi nei confronti della innamorata o presuntatale o quella che vorremmo diventasse la nostra innamorata. Grazie Grazie